Riparte la mobilitazione dei sindaci del territorio contro il caro Pedaggi. I 115 sindaci che fanno parte del comitato che dal 2018 porta avanti una battaglia lunga ed estenuante hanno scritto al nuovo ministro Matteo Salvini per chiedere un incontro urgente e risolvere la problematica con il blocco delle tariffe, una missiva nella quale ripercorrono tutte le tappe della loro battaglia. Gli obiettivi del resto sono sempre gli stessi, blocco tariffe dopo il 31 dicembre, tavolo sicurezza delle autostrade 24 a 25. In questi anni i sindaci nonostante le rassicurazioni dei vari ministri che si sono succeduti non hanno visto la risoluzione del problema e peraltro i colpi di scena in questa vicenda sono stati tanti ultimo il ritorno a Dallas della gestione. Ora Salvini, il comitato, chiede di riprendere in mano il discorso e dare risposte. Sono trascorsi ormai quasi cinque anni dal 3 gennaio del 2018 quando tutto ha avuto inizio. Tanti risultati sono stati ottenuti. Il costo dei pedaggi è bloccato al 31 dicembre 2017. In tema di sicurezza, grandi passi avanti sono stati infatti, ma non è ancora sufficiente. Negli ultimi mesi abbiamo assistito al passaggio della gestione da strada dei parchi ad Anas. Quindi riteniamo che effettivamente esistano i presupposti per consentire una importante riduzione del costo dei pedaggi e soprattutto per garantire la gratuità dei pedaggi ai cittadini residenti nelle regioni di Lazio e Abruzzo pendolari per motivi di studio, di salute e di lavoro. Quindi confidiamo in una convocazione da parte del ministro e soprattutto confidiamo nella risoluzione di tutti i problemi che abbiamo ampiamente esposto e soprattutto riteniamo che debba essere iniziato un importante lavoro, un'importante discussione sulla mobilità in generale nelle nostre due regioni, Lazio e Abruzzo. Quindi attendiamo fiduciosi la convocazione. In caso contrario siamo comunque pronti a tornare a far sentire la nostra voce e a tornare a manifestare. Grazie a tutti.